Ciao a tutti i giocatori babbani, siamo lieti di informarvi che state per giocare a Hogwarts Quiz. Qui a Cluso troverete le spiegazioni del gioco e tutte le attrezzature, tabellone, dado, pedine e carte. Prima di cominciare potrete scendere tra le pedine galeone, cicatrice, grifondoro, tasso rosso, corvo nero e serpe verde. In Hogwarts Quiz avrete la possibilità di mettere alla prova le vostre conoscenze tra i vari argomenti diversi, storia e geografia, sport, natura, aritmetica, grammatica e ontologia. Il gioco avrà inizio tra 1 o 2 minuti circa, distinti saluti Minerva Megrandi. Il nostro gioco si comincia partendo dalla casella di partenza dopo aver scelto la propria pedina. Si tira il dado e si va avanti. Quando si arriva sulla casella con il punto di domanda, il giocatore alla propria sinistra farà una domanda tra le varie categorie. Se si risponderà correttamente si potrà andare avanti di due caselle e continuare al gioco. Se non si risponderà correttamente si finirà per due turni nel lago nero. Una volta arrivati all'arrivo, il giocatore alla propria sinistra vi farà il domandone finale. Anche questi saranno divisi per vari argomenti e ogni domandone avrà tre domande. Se non si risponderà correttamente anche a una sola domanda si andrà indietro di due caselle. Questo è il gioco ideato da Anna Miriam, Noemi, Penelope, Dennis e Davide.